venerdì 7 maggio investire in 90 secondi purtroppo come vedi era programmato l'investing napoli che per ovvie ragioni sarà rinviato a data destinarsi ma noi in caso in autunno faremo investing roma la novità è però come vedi che c'è il mio nuovo libro adesso sulla schivania come vedi è un libro anche graficamente molto insomma interessante carino e quindi l'altra cosa che fa piacere è che come vedi è primo nelle classifiche delle novità di amazon nonostante sia uscito già da due settimane insomma è una grande soddisfazione tornando al mercato il mercato aperto bene ma sta ritracciando questo è il grafico del fuzzimib a 5 minuti al quale è evidente che dopo una partenza alta l'indice sta un attimo consolidando è un momento importante importante perché stanno uscendo i risultati trimestrali e quindi tipicamente le aperture sono molto violente oggi un po di meno ma ad esempio ti mostro l'apertura di ieri questo è un articolo che ti consiglio di leggere sul blog si possono guardare 874 e 56 ieri praticamente ho fatto vedere l'operatività nei primi 26 minuti che ha sfruttato proprio il fatto che titoli come unicredit non che telecom italia erano particolarmente volatili e quindi sono sono eccezionali opportunità oggi in realtà non ci sono stati quegli spike che tipicamente avvantaggiano questo tipo operatività velocissima nonostante ci sono dei risultati importanti c'è non sta premiando perché il titolo primi in classifiche in questo momento è ricordate che ti mostro qui nel grafico che effettivamente ancora una volta viene da una giornata complessa perché ieri nel pomeriggio ha pubblicato i risultati c'è stato un sell off e adesso sta cercando di riassorbirlo oggi hanno dato i numeri anche anche enel bpm che questo qui non che non che c'è la vicenda c'è popolare miglia romagna che invece li darà a breve quindi insomma oggi sarà una giornata certamente più volatile rispetto alle precedenti ci stiamo sicuramente annoiando molto meno rispetto alle scorse settimane altri temi da guardare c'è telecom italia come dicevo vedi questa è grafica 5 minuti una discesa abbastanza feroce adesso la monitoriamo e poi c'è unicredit che va tenuta sotto controllo per i numeri interessanti non che questa FCA stesso discorso ha sorpreso in positivo e adesso vediamo se ci sarà un assestamento quindi sono giornate senz'altro più interessanti il tema è che c'è una nuova inversione alla forza relativa nel senso che nel mese di aprile l'indice italiano aveva perso di momentum rispetto al Nasdaq invece il Nasdaq sta realizzando una serie di sedute negative che non vedevamo da molti anni quindi è da monitorare e da verificare se effettivamente sul Nasdaq sono solo veloci presi di profitto come è stato sempre nel passato oppure c'è qualcosa di più rilevante sullo sfondo i dati macro soprattutto in America che fotografano un'economia in forte ripresa e quindi con un rischio inflattivo e proprio questo sarà il tema dei prossimi mesi direi su quanto le banche centrali riusciranno a mantenere politiche monetarie espansive in un contesto economico e grazie a Dio cambiato anche in virtù del fatto che soprattutto in alcuni paesi come gli Stati Uniti e l'Inghilterra il discorso dei vaccini sta procedendo a pieno ritmo quindi anche oggi sarà una giornata insomma bella divertente volatile e quindi vado ad operare ti lascio un ottimo fine settimana e un aggiornamento a presto